Ha parlato del clericalismo. È uno dei mali, è uno dei mali della Chiesa. Ma è un male complice, eh? Perché ai preti piace la tentazione di clericalizzare ai laici. Ma tanti laici in ginocchia chiedono di essere clericalizzati. Perché è più comodo, eh? È più comodo. E questo è un peccato a due mani. E dobbiamo vincere questa tentazione. Il laico deve essere laico, battessato, ha la forza che viene del suo battessimo. Servitore. Ma con la sua vocazione laicale. E quello non si vende, non si negozia, non si è complice con l'altro. Perché io sono così. Perché va l'identità lì. Tante volte ho sentito questo, eh? Nella mia terra. Ma io nella mia parrocchia, sa? E ho un laico bravissimo. E questo uomo sa organizzare. Perché, Eminenza, perché non lo facciamo diacono? La proposta del prete è subito clericalizzare. Noi. Sì.